Siamo nella quinta domenica di quaresima e Gesù oggi si trova a Betania nella casa dei suoi amici Marta, Maria e Lazzaro ma Lazzaro è nel sepolcro, è morto e anche Gesù sperimenta la morte di un proprio caro e piange come ogni uomo Gesù piange come ogni uomo lui sperimenta il distacco, il distacco della morte, la sofferenza della morte ma Gesù è più forte della morte e vuole rivelare tutto questo che lui è venuto a portare una risurrezione globale di tutto quanto la persona, dell'anima e del corpo nella lettura del profeta Ezechiele nel libro del profeta Ezechiele si legge che lo spirito del Signore ridona la carne alle ossa inaridite questa immagine che rimanga sicuramente alla resurrezione del popolo per cui il popolo dall'esilio ritorna nella terra promessa è una resurrezione di tipo morale ma questa è un'immagine di quella altra resurrezione di cui poi parla Paolo nella lettera ai Romani per cui battezzati siamo morti al peccato ma risorti nella vita nuova la vita dei figli di Dio è la resurrezione spirituale la resurrezione battesimale Gesù tutto questo viene a portare viene a portare la resurrezione dei popoli la resurrezione morale per cui i popoli, la nostra Italia ha bisogno del Vangelo ha bisogno dell'insegnamento morale e soprattutto della dottrina sociale della Chiesa che insegna veramente che cosa sia il tanto sbandierato bene comune ha bisogno dei contenuti del Vangelo che fanno parte della nostra tradizione culturale e come noi veniamo dalla Grecia, da Roma, dai popoli che ci hanno conquistato allo stesso tempo non possiamo non dire che in noi c'è una cultura giudaico-cristiana abbiamo bisogno dei valori del Vangelo cioè il valore della vita, il valore della famiglia, il valore del lavoro, della solidarietà della sussidiarietà, del rispetto, dell'onestà, della giustizia questi sono valori evangelici il valore della libertà, dell'ugualianza, della fratellanza che non sono solamente valori della rivoluzione francese o dell'illuminismo ma tutto questo è già contenuto in quella ansia potremmo dire di libertà e di fraternità che è nel Vangelo tutto questo Gesù lo viene a portare viene a portare veramente la liberazione anche umana e sociale ma soprattutto poi Gesù viene a portare la libertà del cuore che viene mediante la fede e i sacramenti mediante la fede e i sacramenti noi sperimentiamo una libertà che è indicibile che nessuna scienza umana potrà mai donare all'uomo e alla donna di ogni tempo perché questo è solamente dono gratuito di Dio per cui Gesù e la fede non sono sovrammobile non sono un accessorio che può essere anche un optional Gesù invece è necessario alla nostra fede è necessario alla nostra vita Cristo è veramente il Signore della nostra vita che se è vero che ci dà un gioco ma il suo gioco è suave il suo gioco è veramente capace di portare la libertà ma non basta Gesù viene a portare anche la risurrezione la risurrezione della carne io sono la risurrezione e la vita e la vita integrale anche della nostra carne mortale Gesù ci risuscita nel cuore mediante la grazia ma addirittura lui è garanzia di risurrezione per la vita eterna alla fine dei tempi quando la nostra carne mortale risorgerà noi sappiamo molto bene dall'insegnamento della Chiesa che al termine della nostra vita ci presenteremo davanti al Signore per essere giudicati sulle nostre opere le opere dell'amore le opere di carità le opere di misericordia alla sera della vita noi saremo giudicati sull'amore questo è vero ma è altrettanto vero che se esiste il paradiso il purgatorio e l'inferno allo stesso tempo anche esiste la risurrezione della carne come Gesù è risorto anche noi risorgeremo come lui lui è la primizia e con lui la primizia è anche Maria la quale è risorta e vive in Dio chiediamo veramente al Signore di farci rendere conto che noi siamo destinati alla vita la nostra religione è la religione della vita la religione della gioia e soprattutto custodiamo la bellezza della nostra vita la bellezza della nostra corporeità sapendo che la nostra carne risorgerà come è risorto Cristo